La galleria ha bisogno di un intervento radicale che è quello di impermeabilizzare e consentire il deflusso dell'acqua perché ogni volta che piove veniva chiusa era pericolosissima. ATS ha trovato grazie anche a un aggravamento che c'era stato in occasione degli eventi di vaia e fondi attraverso la regione e quindi si vanno a creare sostanzialmente dei scoli, quindi prima delle raccolte delle acque sotterranee e poi dei scoli verso il piave e questo dovrebbe in teoria, secondo loro, secondo chi ha fatto il progetto, risolvere la problematica che è una cosa assolutamente da fare, nel senso che non si può più procrastinare perché comunque la galleria diventava pericolosa e quindi anche per la sicurezza delle persone.